Quattro weekend compresi tra la fine di ottobre e la metà di dicembre, una formula rinnovata ma la stessa missione di sempre, ovvero valorizzare la vacanza attiva ed il turismo esperienziale. Prende il via il 26 ottobre prossimo dall'Aquila, sede scelta non a caso perché indicata nel 2026 come capitale italiana della cultura, l'edizione 2024 di Active Abruzzo, l'evento voluto dalla CNA Turismo per sostenere il mercato turistico del nostro territorio e le sue eccellenze. Siamo alla quinta edizione, partiamo dall'Aquila per arrivare a Tagliacozzo, ci sono una serie di appuntamenti che coinvolgeranno tutte e quattro le province, sono quattro eventi formativi per far sì che le imprese possano apprendere i nuovi segmenti dell'offerta turistica a livello nazionale e internazionale e poi ci sono quattro esperienze che riguardano l'artigianato artistico, riguardano il cicloturismo, riguardano l'escursionismo e riguardano l'enogastronomia. Gli eventi formativi sono altrettanti con l'alberghiere, quindi l'Aquila capitale della cultura, per arrivare all'extra alberghiero che si terrà a Roseto, per arrivare a concludere il tutto a Pescara, le infrastrutture per lo sviluppo del turismo. Quindi vogliamo fare il punto su quale infrastrutture servono per far decollare il turismo anche a livello internazionale. Penso all'aeroporto, penso alla mobilità interna, penso a tantissime questioni. Quest'anno festeggiamo le Cinque Candeline dell'Activ Abruzzo, un'attività che coinvolge quest'anno tutti i soci dell'Abruzzo, quindi tutti i territori, le quattro province. Saranno otto incontri sul territorio per vivere il turismo in maniera attiva e in maniera esperienziale, ma anche inclusiva e ci saranno dei nomi importanti di tutti i comparti che riguardano il turismo, uno fra tutti è Roversi, sulla parte enogastronomica. Come è cambiata la richiesta, la domanda del turismo? Non è più residenziale, il turista ha voglia di conoscere, di scoprire, di vedere e quindi tende a muoversi molto più rispetto al passato. Sì, è vero, il turista vuole fare cose diverse, non vuole solo stabilire un contatto col territorio in maniera fissa più di un giorno, ma quando è su un territorio vuole conoscere tutti gli aspetti. E quello del turismo, dell'outoring e dell'esperienziale forse è quello che in questo momento sta attraendo maggiormente il turista, soprattutto il turista che noi speriamo che venga a conoscere l'Abruzzo, che è quello straniero dei paesi al nord Europa. I locali frequentano ancora sia il mare che l'interno giornalmente.